La tua attenzione ha? Devo andare al medico Devo andare al medico a fare visita Per capire il motivo Può essere la pressione La pressione è come l'arte di pressione E alimentare ancora di più Perché qui vai in alto La pressione aumenta E' andato troppo in quanto c'è Un po' di pressione 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 Per favore Trezzi Prego, che abusibile E non politicamente fatta tutto a schien Ho avuto un cavo di pressione Ho dovuto pagare i portati Per favore Siamo arrivati prima di tutti Facciamo da cercare la stava Martia Martia! Ammi la foto! Ciao! Ammi la foto! Ciao! 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 Buongiorno, buongiorno! Andiamo alle 12 e un 3 quattro, 12 e un 3 più 2, un quarto meno uno, un grande gruppo, un grande gruppo, un grande gruppo, un grande gruppo. E dove sei? Bergamo! Bergamo! Bergen de Hura! E io? Bergamo di Sopra! Quindi Bergamo di sotto e Bergamo di Sopra. Noi siamo de Hura! Ciao! Tospegato! Bergogna! E io? Ho perso un attimo di senti. Mi hanno caricato. Oh, la bevele ad olio! 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 E io? Grazie a tutti.